anvedi che ha portato la befana tra pochissimo solo su tele belluno parleremo di sono tornate le streghe sono tornate tra poco buona visione da denti fissi in un solo giorno sì con la clinica favero a belluno e la tecnica all on for denti fissi in un solo giorno clinica favero a belluno in via vittorio veneto centro millenio assicuratrice valpiave bene comune depian salotti fabbrica divani poltrone divaniletto e poltrone relax depian salotti produzione e vendita diretta a fuori di feltre i divani depian veri gioielli che durano nel tempo benvenuti a tavola benvenuti 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 ben tornata joy grazie grazie dove sei stata in questo tuo peregrinare in moltissimi posti va bene ce lo racconterai questa settimana strada facendo perché benvenuti a tavola oggi iniziamo a cucinare nuovamente con la joy che si fa oggi oggi facciamo dei crostini semplici 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 per la dieta che sono ingrassata quindi per la dieta ingredienti pane di segala gorgonzola una mela noci feltrine la mostarda di pomproussian prendiamo il pane tagliamo con un piccolo coppapasta rotondo o quadrato tagliamo la mela ben lavata e non sbucciata della stessa misura del pane ora andiamo a comporre il nostro crostino noi già i per motivi di praticità abbiamo fatto vedere che si può tagliare anche con l'aiuto di un bicchiere il pane perché in casa a volte magari non c'è il coppapasta ma insomma di questi tempi ormai tutte ci siamo munite di un buon coppapasta a casa allora dimmi mentre compone allora noi abbiamo abbiamo tagliato tagliato queste belle fettine di pane di segala ci mettiamo sopra la fettina di me di mela già dove sei stato è vero che si è stata anche in trentino alto adige in trentino alto adige in trentino alto adige beh aspetta che ti dico noi non avevamo il levatorso lì oggi quindi se noi togliamo levator togliamo il torsolo dalla mela togliamo anche i semini ma noi li lasciamo perché sono buonissimi sanno di mandorla dopodiché dopo aver messo il pane che ha il gusto pane di segala che ha il gusto intenso e ricco ci mettiamo la melina che ha la freschezza e l'acidità si procediamo e mettiamo su il gorgonzola tu hai messo gorgonzola possiamo prendere un altro erborinato se abbiamo un altro si anche taleggio ci sta tanto bene l'importanza l'importante però sarebbe dare un po di piccantezza al piatto quindi il gorgonzola ci sta bene perfetto ricordiamo che oggi joy ci sta preparando un piatto che privilegia un prodotto tipico del territorio bellunese che è la melo e prussiana ma anche la noce feltrina e poi oggi siamo andati proprio a prendere come materie prima la mostarda che dicevi tu che la mostarda di mela prussiana assolutamente bio e voi sapete benissimo dove andare ad acquistarla a sovramonte ma poi insomma coloro i quali amano i prodotti del parco nazionale dei redoromiti bellunesi sanno già dove sono i punti vendita ok poi mettiamo un cucchiaino di mostarda di pomme prussiana e quindi torniamo da dolci e quindi il dolce che la mela prima dava l'acidità e invece questa da un po di dolcezza una noce feltrina una noce feltrina e quando avete gli amici a cena gli amici a cena non sapete con cosa offrire viene di qua con cosa offrire un bicchiere di bollicine fantastico per iniziare un pranzo guarda qua questo stuzzica l'appetito perfetto e allora dillo come prima puntata in tua in nostra in compagnia che si diceva benvenuti a tavola e noi ci rivediamo puntuali domani alla stessa ora con la gioia ciao arrivederci da